Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. In questo video andremo a vedere come poggiare i piedi a terra nel salto della corda. Questo è importante perché solo in questa maniera non andrai a sollecitare troppo la caviglia e non vai a creare delle infiammazioni al tendine del tallone. Prima di continuare a vedere il video ricordati di mettere mi piace, di iscriverti al canale youtube e condividere questo video con i tuoi amici. Io personalmente sto seguendo un programma di 30 giorni, 10 minuti al giorno di salto con la corda per 30 giorni. Questo mi aiuta a tonificare l'organismo, a bruciare il grasso addominale e nelle donne a tonificare i glutei. La domanda è sempre la stessa, ma saltare con la corda con questi balzi ripetuti per 10 minuti al giorno può creare delle infiammazioni a livello del tallone? Ti dico di sì se salti in maniera non corretta e ti dico di no se salti nella giusta maniera. Quindi adesso andremo a vedere come devi posizionare i piedi a terra per saltare nella giusta maniera. Come vedi in questo video quello che poggia è la pianta del piede e un movimento come a tirare su la punta del piede. Il salto come vedi è molto piccolo, quindi non dobbiamo fare un salto alto, ma saltando in questa maniera non avrai nessun problema a livello di infiammazioni del tallone. Ricordati che per perdere peso è importante associare tutto questo, quindi del buono e sano movimento, a una giusta alimentazione. Io non credo nelle diete ipocaloriche, non credo nelle diete iperproteiche, ipoglucidiche. Tutto questo mi crea infiammazione, infiammazione, acidosi e crea degli effetti yo-yo sul peso. Quindi le persone è vero che perdono peso velocemente e poi dopo lo riacquistano con gli interessi. Quindi bisogna impostare un piano alimentare che deve essere sempre personalizzato sulla persona, quindi non credete a questi piani alimentari che vanno di moda. Rivolgetevi sempre a professionisti, quindi magari al vostro nutrizionista di fiducia. È importante anche mantenere sotto controllo la componente emotiva, quindi la gestione dello stress. Per farlo io ti consiglio lo yoga o comunque delle pratiche meditative. Detto questo, un po' di attività sportiva, dalla passeggiata, la corsa, diciamo, questo anche non fa tanto bene, poi lo vedremo in altri video. E che dirvi ancora? Niente, se vi piacciono i miei consigli, metti mi piace a questo video, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al mio canale YouTube. Ciao, grazie!